Scrivi una lettera ad un anziano e diventa il suo nipote di penna. Si legge sul sito del progetto Un Sorriso in Più, al quale ha aderito l'amministrazione locale di Cassano Magnago, lanciando l'invito ai giovani e coinvolgendo gli ospiti dell'RSA Cittadina Sant'Andrea. Quando ho letto di questo progetto mi è piaciuto subito e ho pensato di parlarne con la consigliere Stagni perché lei è un'appassionata di scrittura. È un progetto che nasce da una onlus. Io credo che sia davvero importante per gli anziani e soprattutto soli ricoverati avere un riferimento per poter permettere loro di aprirsi anche ai ricordi. È al tempo stesso che possa veramente arricchire le persone, i nipoti, perché negli anziani possono trovare un insegnamento dal loro vissuto, dalla loro esperienza, perché si tratta di vita vera. È stata un'occasione, diciamo, come prima struttura che aderisce al progetto e probabilmente poi seguiranno anche tutte le altre strutture del gruppo Proges. Per diventare nipote di penna, ricordando la serietà dell'impegno, è sufficiente andare sul sito omonimo e scegliere l'anziano destinatario delle proprie lettere. Dopo un colloquio conoscitivo con la supervisione degli educatori, la corrispondenza epistolare può cominciare. Appello ai cittadini e ai ragazzi delle scuole di aderire a questo progetto per dare un po' di vitalità all'interno di una struttura che a volte può essere anche triste per le realtà che vive.